Crediamo a questo stupendo animale come elemento per valorizzare il nostro territorio che poi è la zona di origine di questa stupenda razza e anche poi per dare un futuro a coloro che fino ad oggi hanno permesso il mantenimento di questa razza in questo territorio che sono gli allevatori. Torna la Chianina d'Oro, la serata dedicata alle eccellenze aretine. L'evento che si terrà venerdì 6 aprile all'Arezzo Equestrian Center prenderà avvio alle 19.30 con la cena di gala con le eccellenze locali. Faremo un agnolotto, ripieno di guancia di Chianina Brasata al Sirà e faremo dei straccetti granoverna a ragù di Chianina naturalmente. Prima ci saranno i macellai, non scordiamoci i macellai, prima che faranno l'antipasto aperitivo con tutte le tartare, carpacci e altro. Faremo degli involtini di carne con una diluzione di vino e dei bocconcini, praticamente il vecchio peposo. A seguire la premiazione di coloro che con la loro attività hanno contribuito a valorizzare il territorio a livello nazionale ed internazionale. È caratterizzante una delle nostre quattro vallate, una delle più belle, lo dico con un minimo di campanelismo perché abito in Baldichiana senza nulla togliere a Val Tiberina, Casentino e Valdarno. Ma ecco, è una caratterizzazione importante, la valle del Gigante Bianco così è stata definita e viene declinata venerdì 6 come la Chianina d'oro, quindi si tende a mettere insieme l'eccellenza del territorio, quindi la Chianina, con l'oro della città di Arezzo. Ecco, direi che definizione migliore non poteva essere trovata per questo evento, in cui si premeranno anche eccellenze della nostra città ma anche del territorio. Il premio La Chianina d'oro sarà consegnato al primo rettore della Fraternità dei Laici, Pierluigi Rossi, a Graziella Boncompagni, a Silvia Baracchi del Falconiere di Cortona e al Cavaliere Olimpico Emanuele Gaudiano. L'ultimo premio, infine, andrà all'azienda agricola Trequanda.